Ecco un altro case che consente di trasformare in maniera ottimale un qualsiasi hard disk SATA da 2,5 pollici in un supporto di memorizzazione esterno da collegare al computer via USB. Nella confezione sono presenti, oltre al case, un manuale di istruzioni in inglese tedesco, uno spessore adesivo in gomma piuma per assicurare i dischi con altezza da 7 mm e un cavo USB 3.0 per il collegamento del case al computer. Il case FE 2005 misura esternamente 127x80 mm e pesa 69 grammi, è realizzato in plastica rigida ed ha una buona qualità costruttiva. Come il modello FE 2010 che abbiamo recensito qualche giorno fa, non necessita di attrezzi per il montaggio del disco, in quanto il suo alloggiamento è dotato di un comodo sistema di apertura a cassetto, soluzione che torna utile per cambiare il disco velocemente. Sul lato sinistro troviamo un ingresso USB 3.0, il blocco per il vano dell'art disk e un led di stato che resterà fisso quando il disco sarà in stand-by e lampeggerà nelle fasi di lettura-scrittura. Il case supporta tutti i dischi rigidi SATA da 2,5 pollici, sia di tipo HDD che SSD, con un spessore massimo di 9,5 mm. Grazie all'ingresso USB 3.0 è possibile raggiungere velocità di trasferimento dati fino a 5 gigabit per secondo. Inoltre, i dischi di tipo SSD potranno beneficiare del protocollo UASP, che riduce la latenza e aumenta la velocità di lettura e scrittura del 70% in più rispetto alla tecnologia USB 3.0. Per quanto riguarda la compatibilità, il case funziona con tutti i sistemi operativi e non sono necessari software o driver aggiuntivi. Al momento è venduto su Amazon a soli 12€.